Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con The Witcher 3 Dobbiamo continuare a seguire le orme dei Nilfgaardiani per vedere dove ci portano Oh cacchio, qua non mi piace, bisogna buttarci, ci dobbiamo buttare Buttiamoci va, vediamo un po' qua cosa c'è qua Se ce le fa aprire queste casse, benissimo Ok, c'è sempre un po' di robetta Andiamo da qua, questo ce lo fa aprire Ok, poi, leviamoci un attimo da qua e cerchiamo di capire Mi fa tornare indietro, mi fa tornare Quindi c'è qualcosa qua Madonna, sta cacchio d'allergia mi sta praticamente a devastare Ce la fai a tornare sopra, eh amico mio Qua sopra ce stanno i lupi, ce stanno Come l'hanno proprio disintegrato E' dal video prima che mi stanno rompendo Allora, vediamo un po' qua Qua è da dove sono venuto, c'è sta un'insegna Che possiamo esaminare No, perché mi fa ma... Ah, viaggio rapido Poi, dobbiamo andare da quell'altra parte, secondo me Che dite? Assalta o non salta? Non mi ricordo se saltava Scatta, salta Ok, perfetto Possiamo andare Ok, seguiamo le impronte che ci portano di qua Senti il rumore Sento il rumore di sti cacchio Dei lupi che mi hanno proprio rotto Sali Ok C'è sta qua sotto? Sta a vedere un attimo che c'era Qualcosa di viola Che cos'è questa cosa viola? Non si può prendere, no? Speravo fosse qualcosa di particolare Ok Bene Perfetto Ok Le impronte Dove portano? Qua c'è un'impronta rossa Qua c'è qualcosa Qua c'è qualcosa, regà Cacchio va Aspetta Dammi Ma tira fuori la spada La spada O la tira fuori Oh, la tana del grifone Che cacchio è qua? Bel grifone Io farei così E' a dire Beak tip Wash Uvijioni Mec 我c Alcane Agni Mec Til A Si A A Las Ma At Senti Some E gli hanno ammazzato la moglie Oh, livello 2, grezzo Parla con Vesemir Allora, allora Punti esperienza 500 Missione aggiornata La bestia di Bianco Frutteto La cosa bella di questo gioco E' che Le missioni durano tantissimo Ok, allora Andiamo Vediamo un po' se il cavallo viene pure qua Andiamo un attimo Eccolo, bello Vieni con me, va? Andiamo Andiamo a parlare con Vesemir Vai, vai, vai E qua Speriamo che non ci siano lupi che ci attacchino E attenzione a non prendere gli alberi in faccia Il villaggio abbandonato Guardate come andiamo Senza prendere tramve Siamo pure già quasi arrivati Comunque è comodissima L'introduzione del cavallo per i viaggi rapidi Su questo gioco Serviva veramente Serviva veramente come Come cosa Eccolo qua Il Bianco Frutteto Quindi forse per questo La bestia del Bianco Frutteto Forse si svolgerà qui La missione Finale Con il grifone Più che altro Non tanto missione finale Ma proprio quella Di questa missione qui Ok Allora scendiamo Vediamo un po' che cosa Aspetta volevo raccogliere qua Perché è scattato Frutto di basilissa Ok Andiamo va Oh 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 aveva il suo figlio nel Vulpine. I Nylfgardiani incontrano le città, matarono il suo figlio, pensarono che avevano riempire cose. È sempre lo stesso. Inoltre di scendere per un professionista, si cercano di farlo anche loro, ma finiscono a fare le cose più pelle. Ho il buckthornio. Deve funzionare come un charmio. Un sento potente. Più come stench. Città, città. Città, città, manure, città, la ricetta del territorio. Remember Tredagor? C'era il suo giù nel tracaggio? Tu avessi la parte del prossimo giorno patente, scrubbing, Come si può voler. Tu mai fai stoppare l'agirazione? Ok. Se tutto è pronto, diciamo la parola, e ci siamo arrivati a lavorare. Mi sono pronti. no point in waiting let's find a good spot to ambush it picked one out already other side of the stream there's fields and a grove plenty of room and far enough so no one will get in our way good me you there mamma mia ragazzi come on 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 mamma guarda quanto corre guarda quanto corre il compare intanto è qua vicino eh ok adesso piazzeremo una bella trappoletta per il grifone maschio e vediamo un attimo che riusciamo a fare eh ci abbiamo tutto quanto ci abbiamo pure il nostro maestro vasemir che ci aiuterà nella missione e speriamo di fare una bella cosettina eccoci qua pronti andiamo che figata andiamo arrivato al grifone so tell me once we find yennefer what'll you do got your eye on a contract no i'll go to care more little early to settle in for the winter snows are a way off yes and that's what worries me nofgaard's crossed the pontar in the east puts them maybe a week's march from care more if they reach the valley before snows can cover the passes well we need to cover our tracks hide our paths speaking of winter and wintering think you'll come this year maybe might bring a guest eccolo eccolo eh vedi una balestra e che se no mi facevo so wanted in a card game while you run around might come in handy but you're a gambler yourself stop talking got a griffin to kill oh porco cane porco canaccio lurido questo c'è sventra questo c'è sventra questo c'è sventra raga no ma vuoi tirare fuori ok questo ci ammazza grifone reale la bestia di bianco cutteto oh che cacchio eccolo eccolo forza oh oh dai lo so me ne so accorto co cane questo me fa male me fa ok 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 e lo so non lasciarlo fuggire ti sembra facile dove va dove va come cacchio si prende il coso raga vieni qua vieni qua dove cacchio vai vieni qua brutto maledetto che te scappi scappa dove va dove va quantino che caciarone arrivo arrivo ok facciamoci un po' di polletto oh è andato andiamo di qua no sta là sopra sta sta là sopra sta eh adesso arrivo adesso arrivo arrivo amico mio allora spada d'argento per cambiare tipo l'arma oh sta là sta aspetta eccolo oh c'è manco tantissime energie ma la balestra come si attiva però via ok vieni 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 dove vai vieni qua vieni vieni ok via via vieni qua vieni qua oh porco cane eccolo 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 che modo attacco forza forza le spalle grande grande forza 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 e ce l'ho qua dai che ce l'ho qua dai che ce l'ho qua dai 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 è andato voilà uh benissimo not bad not bad though you could stand to improve some things for example upward vertical strike it's too obvious but more on that later take the griffin's head to the black ones already are horses meet me at the inn ok allora dobbiamo prendere qualche cosa del grifone prendiamo la sua bella capocetta dove sta eccola qua artiglio di mostro cervello polvere carne mutaggine e trofeo di grifone tutto quanto aia guarda è bella la testa sopra il nostro cavalluccio allora torniamo dai nilf gardiani che praticamente abbiamo fatto quello che ci hanno richiesto e adesso possiamo praticamente chiedere informazioni in merito a ienfer allora attenti qua la c'è stava l'altra volta mi ricordo c'è stava un mostro c'è stava una specie di qualche cosa di di mago non mi è piaciuto per niente quindi andamocene via più lontano possibile da là e e passiamo qua andiamo un po' se il nostro cavalluccio ci passa perché ci deve forza passare perché porta la capoccia senza il cavallo io sapevo come la portiamo sta capoccia allora e da qua dove si va poi posso passare sembra di sì aia aia una zonaccia sono andato a passare in una zonaccia un po' brutta eh stanno un po' di dei fumi tossici non mi piace come cosa andiamo però levamocene subito da qua è andata abbastanza bene quel grifone peccato che devo riuscire a capire come si cambiano le come si dice ok la testa la devo prendere riscuoti la ricompensa ma forse non senza cavallo devo andare andiamo a vedere va se serve il cavallo e devo riuscire a capire come si inventano le altre armi ah posso entrare liberamente meno male va come si Oh, no, no! By the gods, no! What? Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Ce servono, dobbiamo fare potenziamenti, comprare le cose e via dicendo. Preparere e lasciare bianco frutteto con Vesemir. Grandi. Bella missione. Cioè, mi è proprio piaciuta questa rega. Senti come lo stanno affrussando tanto quello. Andamocene via. Vorrei che ci andiamo da in mezzo pure noi. Via, via, via da qua. Allora, chiamiamo il nostro fido cavallo. Da dove verrà? Oh, dall'acqua è venuto. È spuntato dall'acqua. Molto bene. Con il nostro griffone sopra. Sali. Perfetto. Andiamo. Ne andiamo da Vesemir. Il nostro maestro perché così andiamo a Bizima. Ah, ah, da Yennefer. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperare e a raggiungere più che altro la nostra donna. Dista un bel po', eh. Vabbè, ma manco poi tantissimo. Attenzione, scusate. Volevo passare. Scusate. Permesso, grazie. Allora, vorrei fare tipo tutta costa a costa. Quindi, la mia idea poi è pure andare al mercato a fare un po' di acquisti. Più che altro di se possiamo fare potenziamenti e quant'altro. Vediamo un attimo poi come pure la gestione di questa cosa qui. Penso che stiamo andando bene, eh. Ok, da una bella cavalcatina, una bella accelerata. E così ci avviciniamo il più possibile da Vesemir. Ok. Una bella acceleratina. E vediamo un po' di andare a Bizima. Perché lasciamo qua il bianco frutteto che ci ha dato belle soddisfazioni, almeno a mio avviso. Di qua. Piano. Eccolo qua, l'indicatore bacheca degli annunci. Perfetto. Siamo arrivati? Quanto manca? Pochissimo. 30 metri. 30 passi più che altro. Eccoci qua. Ok, scendiamo a cavallo. E hai giù. Vediamo un po' che sta a fare se sta ancora a giocare a carte. Dov'è l'ho? Bandito. Eccolo qua. Vediamo un po' che ci sono. Sì, c'è qualcosa di vero? Guarda qui, c'è un problema. Chi sono? Patrioti. Che fanno la settimana per Temeria. C'è una fissa che cominciano. Non vediamo alcuni guardiani. Ci saranno un altro foe. Prendiamo alcuni previsioni per il viaggio. Poi andiamo. Gerold, dovremmo rimarrere da qua. Solo a questo. Cosa è successo con le lili? Li'l lili. Li'l lili? Li'l lili? Li'l lili. Li'l lili. Non posso dimostrare Temerian. Ci saranno e freddere la taverna. Talvez è vero quello che dicono. Sei fondi dei imperioli? Sei nilfgaard? Ci che passi? Così, che ricordi tutto la forrgo. Cosa paghia. Lei si spiega la mie soigne. Sieglie l'istrua. Li'l lili il palo con la città della croce. E dice che gli uchi non avevano l'imperazione. E le non ris Därfano le trattati. E pogni te vuoi l'ampliare. Cosa, tu è la sua段ia? Se non per la musica, se non per la vita, la vostra bambina ch alta attrappata. E te vedi il mio figlio. Se tu che non ci confianti dell'ampliare. Tu non ci confianti. Néанye! Let me be! Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That's true. What the emperor promised you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. Oh, cavolo. They won't pack down now. I can see that. Mi piace? Mi piace andar fuoco, eh? Mi brucio come che? Ma, ok. L'ho tutti uspionati, regà. Santi poteri magici. Beh, qua ci volevano, eh? Pustionato. Prima ha fatto la cuata, ma c'ha paura. See his face? God save us! Begone. And don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. Come on, let's go. Look at him. Scusi, scusi. Non ti cambiarono un po' Y-Yen? Come? Ho ricevuto un report su un'ottore che si è arrivato in White Orchard Ho saputo che era tu guardando per me Mi potrebbe aspettare fino a che hai trovato me ma... Tu sai me La patienza non è mai stata la mia forte È... Buongiorno a te, Geralt. Io... Io potrei riconoscere a te. E tu non ero in sangue? Scusate. Non ho aspettato a te vedere. Per essere sincero, questo non è proprio come ho pensato che ci saremmo. Come ho pensato? Non ho pensato che tu abbia un'escorto di Nilfgaardia. Non mi piacere, Yennefer. Mi piacere a te sentire. Ma credo che ci hai un'explanazione. E io lo farò in Vizima. Pronti i tuoi uccelli.